La produzione del Ducato elettrico si farà in Sevel, si inizierà entro il 2022 come da piano industriale confermato ai sindacati. A parlarne a Lanciano il segretario nazionale automotive della FIMCISL, Raffaele Apetino, il prototipo è prodotto a Torino, nello stabilimento Mirafiori con circa 80 esemplari l'anno. E il nuovo modello tanto atteso? La normativa europea del 2025 impone alle imprese automotive di produrre assieme al modello tradizionale anche la variante elettrica. La Sevel sta anticipando i tempi ma, commenta Apetino, se il governo non investirà nel settore come fa invece la Germania con 50 milioni di euro sarà uno sforzo vano. Siamo più fiduciosi anche alla luce dell'incontro avuto con l'amministratore Gorlier che ha ribadito e confermato che i 5 miliardi di investimenti per i nuovi modelli in Italia sono tutti confermati, che il Ducato elettrico soprattutto sarà confermato qui in Val di Sangro alla Sevel e quindi vuol dire che la strada imboccata è quella che noi auspicavamo di nuovi investimenti con 13 nuovi modelli, 12 elettrificazioni. Adesso è importante capire il termine della fusione che vedrà con PSA il termine il 31-12 e fare un approfondimento su quelle che sono le opportunità ma anche quelle che potrebbero essere le sovrapposizioni frutto di questa fusione. In tutto questo manca il governo? Assolutamente il governo è uno spettatore non pagante in questo momento, ci aspettiamo che faccia quanto stanno facendo gli altri governi europei in tema di infrastrutture perché l'Italia resta ancora al fananino di coda, sul tema soprattutto in Italia per quanto riguarda la transizione all'elettrico, un tema importante perché conta 258 mila dipendenti in Italia e conta il 6% del PIL del paese. Una tensione negativa verso questo tema vuol dire mettere al collasso l'industria e i lavoratori. Importante è il premio di risultato a febbraio per i dipendenti Sevel, fabbrica dei record, è stato stabilito in tre fasce e quella intermedia arriva a 1340 euro. È importante che si aggiunge alla seconda tranche l'aumento contrattuale che a regime porterà 144 euro ai lavoratori del gruppo. Crediamo un risultato importante anche alla luce di quello che è l'andamento industriale di questo paese che segna ancora un segno negativo. L'epidemia di coronavirus infine, in particolare a Codogno, coinvolge l'automotive. La fabbrica MTA che produce centraline è ferma ma, dice a Petino, lo stock di magazzino è abbastanza importante per salvare la produzione del gruppo FCA. Il problema di MTA di Codogno oggi sembra che ci sia stato lo sblocco quindi al magazzino per quanto riguarda i pezzi che devono andare verso gli stabilimenti di Melfi, Pomigliano, Cassino e Sevel. Sono destoccati e questo ci consente di avere ancora un'altra settimana di agibilità e quindi di lavoro verso gli stabilimenti. Abbiamo fatto un check con il gruppo che al momento non desta preoccupazione per l'Italia ma è chiaro che essendo il coronavirus una variabile indipendente bisogna vedere l'evoluzione dei prossimi mesi. Certo è che se continua il blocco alla zona rossa è importante, però nel frattempo abbiamo chiesto all'azienda di fare un confronto la settimana prossima per capire gli scenari rispetto a questa gravissima emergenza.